Non si fermano le indagini per chiarire i contorni dell'omicidio di Alfio Vittorio Molteni, l'architetto di Carugo ucciso lo scorso 14 ottobre fuori dalla sua abitazione. Ieri la svolta ai carabinieri hanno arrestato il presunto killer Michele Crisopulli in manette anche un secondo uomo, Stefano Posca, accusato di averlo aiutato a dare fuoco alla macchina della vittima. Resta da capire però quale sia il movente del delitto e soprattutto chi siano i mandanti. La tesi della procura di Como e dei carabinieri del reparto operativo di Como è che gli esecutori siano stati inviati da qualcuno a Carugo con il compito di gambizzare e spaventare la vittima come già era stato fatto in passato per tre volte, ma non per uccidere. Ed è proprio indagando su queste precedenti intimidazioni che sarebbero arrivati elementi poi utili alle indagini sul delitto. Non filtrano troppi particolari ma sembrerebbe che il nome della famiglia Crisopulli fosse già finito sul tavolo degli inquirenti qualche mese fa e in merito proprio ad un atto intimidatorio con l'architetto nel merino. Quando cioè un uomo con il volto parzialmente coperto in pieno giorno e di domenica esplose otto colpi di pistola contro le finestre dell'abitazione di via Garibaldi in cui l'architetto viveva. Il malvivente fu visto scendere da un furgone ducato di colore nero e indagando su questo mezzo da lavoro si arrivò a scoprire che era stato noleggiato in quei giorni da un parente di Michele Crisopulli. Un primo importante collegamento tra la vittima e Crisopulli che poi è stato confermato da ulteriori riscontri ottenuti con le indagini. Le intercettazioni telefoniche, l'incrocio dei tabulati, delle celle, le analisi dei RIS di Parma sui mezzi utilizzati hanno poi portato ad altri elementi che gli inquirenti ritengono decisivi per attribuire all'arrestato la presenza a Carugo in concomitanza con il delitto. Anche se il movente e i mandanti sarebbero da cercare in tutt'altro contesto. Giovedì intanto il giudice che ha firmato l'ordinanza sarà in carcere per l'interrogatorio.